Nei lidi balneari agrigentini restano validi divieti ma già dal mattino di oggi le spiagge di San Leone sono state prese letteralmente d'assalto da migliaia di bagnanti che hanno montato tente sull'arenile nelle vicine pinete. Sai che sono vietati gli accampamenti e i fuochi sulla spiaggia di San Leone? Sì. Però avete montato lo stesso? Per divertirci. Lo sappiamo benissimo. Purtroppo che dobbiamo fare? Siamo a Ferragosto. Siamo qui, facciamo il bagno e ci divertiamo. Oggi è Ferragosto e è quella agrigente tradizione montare le tende e stare tutti qui insieme con gli amici al mare. È una città di vecchie diventata, alle due dobbiamo staccare la musica, il sindaco Zambuto sta vietando tutte le cose. E che cosa dobbiamo fare? L'estate ci dobbiamo divertire pure noi. Preparando il barbecue per Ferragosto? Sì. Restarete qui fino a stasera, stanotte? Anche fino a domani mattina circa. Sai che è viatato fare i fuochi sulla spiaggia? Andandolo fanno tutti, l'ho sempre fatto e non è successo mai niente di male, quindi... Come hanno spiegato dalla Capitaneria di Porto i controlli ci sono, ma il fenomeno degli accampamenti abusivi è di difficile soluzione. A parte questo, tra musica, balli e traffico impazzito, gli agrigentini si preparano alla notte più lunga dell'anno. C'è da scommettere che in pochi rispetteranno il divieto di accendere i tradizionali falò, così come in pochi rinunceranno al tradizionale bagno di mezzanotte. Vedo che ci sono anche qua i rami di albere, farete anche il falò? Sì, sì, un piccolo fucherello con gli amici. È vietato però. Eh lo so, è vietato anche questo.